Mi chiamo Tonelli Stefano, lavoro in secco dal 1988, quindi quest'anno sono 25 anni, il mio ruolo è sempre stato nell'ufficio tecnico. Ho fatto tutta, diciamo così, un po' la trafila dal disegnatore alla posizione attuale di project manager relativamente all'ambito delle macchine automatiche, uso domestico. Non nascondo che ci facciamo supportare anche da quelli che sono le innovazioni tecnologiche, ad esempio la ceramica. Per noi è stato un ottimo elemento per andare a ricercare la perfezione, il dettaglio, la qualità. Praticamente andiamo a sfruttare al meglio quelle che sono le particolarità del chicco di caffè, perché con queste macchine non lo andiamo a inquinare con sapori e odori che siano estranei. Questo è stato, diciamo così, il nostro cavallo di battaglia, una ricerca e un sviluppo durato per anni che poi alla fine l'abbiamo visto sul mercato e apprezzato notevolmente. La passione verso quello che facciamo, tutti ci ritroviamo in questa cosa e chi come me magari vive questa realtà da diversi anni non se ne rende conto, però la maggior gratificazione la vedi soprattutto da quelle persone che entrano e dopo poco tempo le vedi proprio coinvolte per andare a ricercare quello che è sempre il passo più avanti.